Allora, brevissimo corsiccino di rigging con una posa non T Vedete che sono riuscito a fare in modo tale che con Avastar andando in post mode, qui vedete che si riesce ho ottenuto un rigging, adesso qui l'ho fatto velocemente e poi andando in open sim, questo rigging sembra adeguato adesso qui l'ho messo montato solo velocemente, ma è adeguato o comunque dovrebbe essere ancora rivisto bene, vedete se è tutto storto eccetera ma comunque sta seguendo Allora, andiamo a vedere come ho fatto quindi siamo su blender, blender 273 ricominciamo da capo, quindi facciamo new cancelliamo il nostro cubo aggiungiamo l'avatar texturizzato di Avastar dopodiché importiamo il nostro oggettino che è un maglione maglione che l'abbiamo su dunque, ecco no, qua da gencarla il maglione vedete che è questo qui dobbiamo cominciare a raddrizzarlo quindi può cominciare lo aderizziamo lungo la x quindi rx 90 ok poi lo giriamo in modo tale da aderirlo al nostro oggetto quindi c'è il nostro avatar che è questo lo tiriamo su attorno alla z rz meno 90 ok ce lo centriamo un po' ok vedete che a questo punto ok l'abbiamo messo lì ecco, la cosa fondamentale di questo maglione è che non è nella posa T altrimenti sarebbe abbastanza facile come facciamo per farlo andare nella posa T? dobbiamo andare selezioniamo Avastar andiamo nella modalità di posing e poi cerchiamo di prendere il quindi vediamolo un po' di fronte quindi prendiamo l'osso questo cerchiamo di ruotarlo se ce la facciamo no quindi dunque facciamo G ah no perché ho preso l'osso sbagliato quindi deve essere questo dunque in pause mode prendiamo questo osso qua facciamo vedere un po' la ruota ecco lo ruotiamo un po' qua poi prendiamo questo osso qua lo ruotiamo un pochino un pochino G forse insomma si lavoriamo su questi ecco supponiamo di averlo ecco l'idea è quella di adattare lo scheletro di Avastar in modo tale che rientri bene adesso secondo Gaia poi ovviamente si modificano anche proprio l'avatare in modo tale che stia proprio dentro ma per i nostri figli va bene così allora adesso la cosa successiva è quella di andare in Object Mode vedete si selezionano tutte le ossa coinvolte quindi abbiamo abbiamo lavorato solo su un lato e poi cerchiamo di lavorare simmetricamente anche sulle altre ossa quindi Object Mode qua no forse bisogna andare in Edit Mode neanche Object Mode quindi bisogna andare proprio nel nostro osso in Pause Mode in Pause Mode forse aspettate bisogna rimanere in Pause Mode mentre se in Pause Mode bisogna selezionare le ossa quindi per dire qui selezioniamo prima quest'osso c'è tutte le ossa coinvolte con lo Shift con lo Shift con lo Shift quindi tutte queste osse qua la prima cosa che facciamo le duplichiamo in modo tale da evitare di se abbiamo fatto un lavoro un po' certosino sul lato sinistro ce lo rifà sul lato destro usiamo la copia qua e l'incolla simmetrico vedete che ci mette a posto anche l'altro lato ora una volta fatta questa cosa dobbiamo selezionare quindi andiamo in Object Mode selezioniamo il nostro maglione e poi con lo Shift selezioniamo l'Avastar e a questo punto qui viene la cosa che loro hanno modificato un po' dobbiamo fare un Bind to Armature e visto che non è l'AntiPause ricordiamo di fare Alter to Rest Pause quindi avendo fatto questo Bind to Armature ok ci impiego un attimo ok quindi ha fatto la copia quindi per accertarci che funziona andiamo sullo scheletro facciamo il Pause Mode e poi ci accertiamo selezionando quindi un questo facciamo R vedete che a questo punto vedete che abbiamo il rigging del nostro oggetto anche se del nostro maglione anche se non era nella posizione originale poi sempre come al solito si fa in Object Mode si seleziona questo maglione qua e si fa il solito Export Export Collada Avastar e si va a C punti Temp e qui salviamo Maglione 2 punto Dai quindi salvato il Collada Export Collada si dovrebbe andare di default si ok dopodiché quando siamo qua semplicemente facciamo l'Avatar Upload del nostro Mesh Model e qui abbiamo il Maglione 2 che se è stato rigato nella fisica nelle Upload Options cioè include Skin Weights Maglione 2 lo calcoliamo Upload ok eccolo qua Maglione 2 quindi prendiamo il vecchio maglione che ho preso prima lo tolgo e premo indossare il nuovo maglione e vedete che si è indossato e qui abbiamo effettivamente il rigging più o meno come sopra quindi credo che questo sia più o meno tutto per il rigging non ti posso come vedete è abbastanza banale l'unica cosa che abbiamo dovuto fare è stata quando abbiamo fatto il binding quindi qui facciamo CTRL Z ah si abbiamo selezionato il maglione qua più la cosa e qui c'era adesso qui è stato già ecco per tornare indietro si può fare l'unbind ok quindi vedete che a questo punto è tornato a come era in origine anzi gli ha messo se proprio ci fate caso l'operazione che abbiamo fatto ha trasformato il nostro maglione mettendo il maglione in modalità T quindi in realtà quello che è successo è che grazie a quella alter to rest pause siamo riusciti ad avere a modificare praticamente il maglione in modo tale che sia che era già in modalità T è tutto ci sentiamo salve